Gabriele Gravina, cosa significa per lei essere qui oggi? È una giornata di festa e di speranza, perché molte società che hanno avuto la possibilità di coronare con successo i tanti sacrifici che questo mondo di volontariato comporta e soprattutto la speranza di un campionato che riparte e quindi l'ansia di vivere il calendario, quindi tutta una serie di appuntamenti, la programmazione, l'organizzazione e soprattutto un elogio, l'elogio al mondo del volontariato di tanti dirigenti che oggi sono il calcio, perché il calcio vero, lo sport vero è testimoniato e vissuto da dirigenti che hanno queste qualità. Nel suo intervento lei ha parlato di una crescita importante dell'Abruzzo anche parlando di infrastrutture, un esempio è stato anche Casteldisangro che ha potuto ospitare l'Under 21 però all'appello manca il capologo di regione, cioè l'Aquila, che ancora non riesce a dotarsi di uno stadio a norma per ospitare le partite dell'Aquila Calcio oppure anche l'Under 21 più altri casi come per esempio la situazione del Moro Pagani che non è il campo, per cui cosa si deve fare? Qual è il suo parere? L'Aquila adesso è a buon punto, nel senso che breve, spero entro fine anno massimo i primi dell'anno 2015 ci sarà uno stadio di grandissima qualità grazie anche al contributo della Federazione Italiana Gioco Calcio La Federazione ha stimolato subito dopo il terremoto e il disastro del 2009 e grazie anche all'intervento della UEFA ha dato la possibilità a tutti i comuni del cratere di sviluppare un progetto di sviluppo, di riassetto, di riordino di tutte le strutture sportive e devo dire che i famosi 700 mila euro che sono stati donati, circa un milione di franchi svizzeri hanno stimolato le amministrazioni comunali a sviluppare una serie di progetti molto molto importanti come ne cito uno su tutti, come Scoppito per esempio che ha avuto e ha oggi una struttura molto interessante come Goriano Sicoli ed altri, quindi l'Abruzzo sotto questo profilo si è posto come una regione d'eccellenza nello sviluppo delle strutture sportive, ci sono in atto una serie di investimenti per quanto riguarda i centri federali Castel di Sangro grazie alla possibilità di ospitare la Nazionale Under 21 mi auguro, auspico che diventi centro federale d'eccellenza anche per il calcio, quindi l'Abruzzo si sta proponendo sotto questo aspetto, molto c'è da fare però credo che l'Abruzzo abbia già, come ho detto prima, grazie anche alla lungimiranza, alla passione della sua classe dirigente che non sono solo quelli del comitato, della federazione ma anche e soprattutto alla disponibilità di tutti i dirigenti di società che ripeto con il loro sacrificio, con il loro impegno stimolano l'organismo regionale, quindi c'è molto da fare spero, adesso faremo delle verifiche per capire le risorse che la Liga Pro per esempio ha messo a disposizione del Comune dell'Aquila per Paganica, come mai non siano state ancora utilizzate e quindi anche lì a Paganica ci sarà probabilmente un'altra realtà sportiva importante Un'ultima battuta sull'Under 21, ce la faranno gli azzurrini a tornare sul tetto dell'Europa? Oddio, questa è una domanda difficile, per Scaramanzia dico che noi oggi abbiamo appreso del sorteggio e giocheremo contro la Slovacchia prima in Slovacchia e poi qui in Italia, la gara dei playoff, è importante questa qualificazione alla fase finale di giugno 2015 in Repubblica Ceca perché come sapete le prime quattro avranno la possibilità di disputare le Olimpiadi, il CONI ci sta osservando con molta attenzione i tifosi italiani meritano di assistere a delle gare olimpiche in cui il calcio sia presente non abbiamo centrato purtroppo le ultime due, nel 2004 c'è stato questo exploit dell'Italia che dopo 68 anni ha vinto una medaglia alle Olimpiadi ci piacerebbe adesso fare un passo alla volta, adesso il primo obiettivo è la Slovacchia, poi andremo a giugno in Repubblica Ceca e speriamo di centrare l'obiettivo delle Olimpiadi e speriamo di centrare l'obiettivo delle Olimpiadi